Cari amici di Radio Alfa, è il momento di dare il benvenuto all'ospite di questa domenica, Walter Di Bello. Buongiorno e buona domenica a tutti. Buona domenica a te, ben trovato qui a Radio Alfa, cantautore cilentano bravissimo, come vi dicevo pochi minuti fa, quindi abbiamo davvero grandissimo piacere ad averlo qui con noi e a conoscerlo. Ci presenti il tuo nuovo disco che si intitola No Genera, quindi Nessun Genere e ci piace tanto, raccontaci. Allora, come anticipavi prima è un concetto molto radicato, parte dalla musica, quindi cercare di dare un'identità unica ad ogni brano, ad ogni creazione, non sentirsi vincolato da appunto il rientrare in una categoria, quindi essere più commerciale, più appetibile, quindi un'arte libera, mettiamola così. E poi diciamo concettualmente si estende un po' al concetto generale di non avere un genere, quindi un argomento molto diciamo attuale, no? Certo. Questa sorta di fluidità che sta travolgendo un po' il mondo, no? La nostra generazione, cioè quella magari dopo la nostra, non che noi siamo vecchie, però... Eh vabbè sì, siamo cresciuti con delle idee diverse, sì, una cultura diversa, però insomma bisogna essere, diciamo, cioè credo che sia una cosa positiva alla fine, molto positiva, la distruzione di questi vincoli ecco, quindi alla fine... È vero, dare più spazio alla libertà e soprattutto magari alla propria libertà di espressione, di essere se stessi, in qualsiasi modo. Tanti i brani che sono contenuti in questo album e sono tutti inediti, scritti da te, tutti in inglese. Sì, 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 sì. È il mio progetto, diciamo, da solista che poi ho portato avanti col tempo sempre, però nonostante abbia fatto vari progetti paralleli, ad esempio Vibrazione Positiva con cui sono venuto qui... Sì, perché lui dovete sapere, apriamo brevissima la parentesi, viene qui pochi minuti fa e ci dice ma io sono già stato qui, e io... ma non mi ricordo quando... ma no, perché sono venuto con i Vibrazione Positiva e quindi è un altro dei tuoi progetti, ecco. Sì, e diciamo questo non è mai sparito, il mio progetto da solista non è mai sparito anche perché si sa, la vita con i gruppi comunque è abbastanza movimentata, non si sa mai come va a finire. Sì, è vero, qualcuno lascia, qualcuno viene. Assolutamente, quindi ho continuato e sono arrivato appunto a questo secondo disco che è stato fermo un po' di anni, Covid eccetera eccetera, però adesso stiamo facendo un po' di giri, insomma, promozione. Vero, vero, infatti stai suonando tanto, visto, no, in giro, non soltanto sul territorio salernitano ma ti sposti, eh, in tutta Italia quasi. Sì, l'obiettivo è quello, in realtà l'obiettivo è anche uscire fuori dall'Italia perché comunque essendo un progetto di base internazionale diciamo che almeno arrivare più o meno fino alla Svizzera è l'obiettivo di questo disco qua, riuscire almeno... Sì, è bello, internazionale perché anche tu in realtà, no, hai origini fuori dall'Italia, inglesi come dicevo però ti ritrovi radicato nel Cilento. Raccontami un po' anche la storia familiare. Eh, che ti devo dire, da parte di mia madre c'è diciamo la famiglia all'origine anglosassone anche se in realtà sono cresciuto sempre qui in Italia, io quindi sono, diciamo, ho questa parte, diciamo, nei geni ecco, anglosassone, ma comunque sono italiano al cento per cento. Mia madre si è, diciamo, è nata in Italia, cioè è nata in Inghilterra ed è cresciuta in Italia e automaticamente poi si è trasferita nel Cilento, dopo essere stata in varie città, insomma, e alla fine sono arrivato io e ho continuato la dinastia. Però ci vediamo spesso, insomma, si sgira, noi andiamo lì, i parenti vengono qui, è una cosa bella. E poi amo l'Inghilterra, amo l'Irlanda, amo... Sì, sì, concordo. Sono posti incredibili. Bellissimi, davvero. E allora, tornando invece al disco, parliamo di uno dei brani contenuti all'interno che ascolteremo a brevissimo, Mystery. Cosa mi racconti? Cosa ti racconto? Allora, Mystery è un brano che è riuscito molto bene e fra colleghi musicisti è quello che sta, diciamo... Piacendo di più. Piacendo di più. Infatti ho quasi pensato di, più o meno, diciamo, fra un paio di mesi fare un videoclip o qualcosa sul brano, o qualcosa live, vediamo. Mystery è un brano che ha una radice molto folk, ok? Che è, diciamo, il genere che io preferisco. E ha dei ritmi abbastanza quasi, ecco, etnici. Un po' world music come brano. Il significato del pezzo, diciamo, che è proprio un inno alla vita. Ecco, quasi... il messaggio è quasi quello di dire abbandonati, vedrai che, diciamo, le cose, se ti lasci andare, sono più belle di quelle che sembrano, quindi riuscire a vedere la magia, ecco, un po' il mistero, no? La magia. Bello, bello, davvero. Grazie. E allora ascoltiamolo, questo brano, Mystery, Walter Di Bello. E allora ascoltiamolo. Grazie. 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 The answer is in the wind Oh, give me your heart So leave me your heart Leave me your heart Oh, now leave me your heart Oh, now leave me your heart Oh, give me your heart Give me your heart Oh, give me your heart So leave me your heart Leave me your heart Promise me you take care of me And I cheat You will never forget the stay again Will be my flower in a desert land Ancora insieme, ancora in diretta qui a Radio Alfa con Walter Di Bello, che oggi è qui con noi. Tu hai scritto, mi sento molto ispirato da artisti come Ben Harper, artisti dalle sonorità variegate, ma con una coerenza di stile. Sì, è proprio diciamo quello il concetto. Ben Harper è proprio per me un maestro, un mito, un mito. Un giorno aprire un suo concerto sarebbe proprio il tuo sogno nel cassetto che ti auguriamo di realizzare. Sì, io ho sempre apprezzato il suo linguaggio perché riesce a mescolare i generi, a trattare proprio i generi, a dare dell'identità forte ai suoi brani senza appunto fermarsi, bloccarsi. Sì, è proprio libero artisticamente, molto libero artisticamente. Ci sono degli album completamente folk, in acustico, solo con una chitarra, degli album molto rock, blues. Vabbè, lui è proprio diciamo un maestro, un maestro per me. Quindi sì, è di forte ispirazione, è di forte ispirazione. Poi voce black, insomma lo stile black che è comunque da sempre amato, da sempre amato, quindi il mix perfetto, mix perfetto. Quindi ti ha un po' ispirato per il tuo nuovo album, lui, anche se tu sei un tipo che sperimenta molto. Sì, sì, c'è stata forse un po' troppa sperimentazione anche nell'ultimo periodo, ho collaborato comunque con produttori, insomma persone con cui abbiamo ad esempio Christian Botti, con cui abbiamo sperimentato anche sull'elettronica molto, abbiamo fatto brani più ambient, chill, con diciamo queste atmosfere molto larghe, su YouTube ci sta comunque un po' di roba. Poi sono un po' ritornato, diciamo, alle mie origini, perché alla fine diciamo che il mondo acustico, diciamo quello della corda, il legno della corda, è quello che più mi rispecchia. Quindi sì, sperimentare, però comunque cercare di non perdere proprio la, di perdersi, ecco. Sì, di non andare troppo oltre. Sì, non andare troppo oltre. Perché in effetti tu poi suoni la chitarra, no? Sì, sì, chitarra è primo strumento, poi comunque diciamo... Anche altri? Sì, mi arrangio, poi nelle incisioni comunque suono un po' di tutto, basso... Come umile si arrangia, ma è bravissimo veramente. Quanti strumenti suoni tu, fammi capire. La novità è che sto imparando il sax adesso, che è stato sempre il mio sogno. Complimenti! Sì, da solo, da autodidacto sta andando molto bene. Bene, bene. Sono contento. Ma non è facile, quindi... No, no, per niente, per niente. Però, diciamo, per chi canta è più semplice approcciare i fiati. Perché ha già allenato. È quasi, sì, un'estensione della propria voce. Gli strumenti al fiato sono quasi un'estensione, no? Quindi se sei bravo a usare il fiato è più semplice come approccio. Quante cose belle che si scoprono insieme a Walter Di Bello, che se la ride... La domenica mattina. La domenica mattina. Adesso, però, cari amici, ci sono le notizie di servizio. Ritroveremo Walter tra pochissimo anche con il suo nuovo singolo, un altro brano, che si intitola Fantasy. State con noi. Radio Alta. I will never leave the street Yeah, I feel much more free And from here I can't believe too What I've created is fantasy Oh yeah, oh yeah We're from the sea They explain to you There is all just a dream But who knows What a dream really is I use the sound of memories I mix it with my ideology And I take what I've been And a little bit of what I see Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah I leave the beat of what I see Oh yeah, oh yeah I leave the beat of what I see They explain to you That it is all just a dream But who knows What a dream really is They reach your own I run for you If they didn't ask Leave us for you I'm sure this is my home From here I can see the sun My dreams are getting closer You're right, I'm the composer My words are in the wind I'll never leave this tree My voice is all I need I'll never leave this tree Fantasy's all I need And I'm here to feel it I don't wanna waste my time Molto bello questo brano Fantasy di Walter Di Bello che oggi è qui con noi a Radio Alfa Allora Walter, dicevi che questo brano parla del sale che insaporisce la vita di un artista ma quanto mi piace questa espressione? Sì, la fantasia è il sale che insaporisce la vita di un artista perché senza di esse, senza la forza motrice del creare, dell'inventare sarebbe impossibile poi creare, creare musica e creare tutte le forme d'arte poi tutte le forme d'arte esistente quindi sì, noi nel Cilento siamo ispirati continuamente da tutto ciò che guardiamo viviamo in un paradiso quindi è molto più semplice è molto più semplice per noi diciamo immergerci in questa realtà diciamo questa realtà quasi ultra, ultra, esatto, sì non terrene, no, non materiali c'è anche un videoclip infatti di questo brano che è proprio immerso nella natura è un messaggio molto velato, sì la mia giornata tipo sì, alla fine è diciamo non proprio un videoclip è un lyrics video mette al centro il testo comunque del brano e c'è questo diciamo questo quadro in movimento ecco l'ho immaginato un po' così dove c'è appunto questa campagna che è lì dove vive mia nonna insomma un posto bellissimo bellissimo, davvero e poi nulla un'agendina dove scrivere una chitarra per buttare giù i pezzi e basta tutto quello di cui ha bisogno Walter è lì in quell'angolino è lì in quell'angolino anche fantasy fa parte di no genre prima traccia del disco ecco sono otto dicevamo tutte in inglese c'è un figlio amato di più degli altri o sono tutti sul c'è eh vedete qual è? è My Age che è l'ultima traccia e il pezzo che ho fatto insieme al ragazzo di Napoli che si chiama Daniele Monturi in arte Smile from Godzilla è stato una bellissima collaborazione che poi ci ha ci ha aiutato tantissimo entrambi nella crescita appunto artistica ci siamo conosciuti al meeting del mare casualmente così l'evento non te lo racconto è quasi surreale sì però poi ci siamo sentiti cioè io l'ho sentito e ho detto cavolo come è bravo questo ragazzo ci siamo io ho scritto questa canzone l'ho mandata su whatsapp io ho detto perché non la continui e lui ho detto come no abbiamo fatto sto lavoro insieme a distanza è stato bellissimo sì molto allora imbracci la chitarra perché ci devi fare un pezzettino di una tua canzone quello che vuoi è proprio quella is this my age è un pezzettino My name is always the same Sleeping on the stage Now I feel Now I feel The worm of night Now I feel Now I feel The sunlight Do you really Have you stopped the light The songwriters Lost always the time Do you really I'm singing for your eyes Sing for a long Sing for a long time Bravissimo, bellissimo, complimenti davvero Guardate, se vi trovate dovete andare a sentirlo Walter Di Bello dal vivo In band adesso, in band In band, sempre perché lui è preso da tanti progetti Allora, brano bellissimo, questo si intitolava My Age All'interno l'ultima traccia di No Genre Il nuovo disco Che troviamo anche in digitale, immagino, su tutte le piattaforme Sì, pubblicato dalla Rue Music Records Che è un'etichetta di Pisa che, insomma, volevo ringraziare, nominare Che ha preso, diciamo, a cuore il progetto E dai, andate ad ascoltarlo, insomma Sì, scaricate, lo mettete a mi piace Musica indipendente è sempre da ascoltare Cioè io ascolto sempre Fai bene anch'io Poi ci vuole un po' di sostegno dal pubblico Eh sì, dai E poi sulle tue pagine social troviamo anche, immagino, le varie tappe dei concerti Sì, sì, novità e tutto il resto, certo Così possiamo seguirti Altre collaborazioni, altri artisti da salutare e ringraziare? Sì, allora, per la realizzazione del disco in particolare Allora, ho già nominato, ringrazio Cristian Botti Che mi ha aiutato negli arrangamenti Abbiamo registrato anche lì alla Sun Music Records E Edoardo Di Vietri Che all'Hexagon Lab Recording Studio Vallo della Lucania Ha fatto un lavoro di mix e mastering E anche lui ha partecipato all'arrangione di alcuni brani È fantastico E poi tutti i musicisti che hanno registrato Pietro Lorenzotti, Giovanni Rizzo, Edoardo Napolitano Iosef Bruno Lo stesso Cristian, insomma Tanti, eh? C'è tanta partecipazione e tanta musica dentro questo disco, sì Bello, bello E allora, progetti futuri? Progetti futuri? A parte promuovere questo disco Perché naturalmente adesso dobbiamo arrivare in Svizzera ma anche oltre Piano piano, piano piano Se no, poi c'è il mobilista Sempre molto rilassato Sì, allora, progetti futuri a parte la promozione del disco E sto partecipando con un progetto che si chiama Barracca Republic È un progetto reggae Roots in Cilentano Un bellissimo progetto Vedete, è proprio un altro genere Però lui si cimenta lo stesso Assolutamente Stiamo facendo il vinile per un'etichetta di Napoli La Sound Inside Records Che dovrebbe uscire tra maggio e settembre di quest'anno Anche lì sarà una bellissima esperienza Saluto i ragazzi Che li voglio bene come fratelli Walter, è stato veramente un grandissimo piacere Averti qui con noi oggi a Radio Alfa Conoscerti Presentare insieme il tuo nuovo disco Che si intitola No Genre Ti ringrazio ancora Ti invito nuovamente per i tuoi prossimi futuri progetti Sì, tanti complimenti ancora e tanti in bocca al lupo Io ringrazio te Saluto Lorenzo che non c'è Lorenzo Peluso Che è rimasto nel mio cuore Nel cuore Sì, sì, sì E nulla Grazie della gentilezza e dell'ospitalità come sempre Ci ritroviamo presto Alla prossima